Quando si parla di cose scientifiche si intende qualcosa di ben preciso, dal 1600 circa fino ad adesso, quando si parla di cose scientifiche si intendono cose verificabili, cose di cui si possono avere dei dati ben precisi, numerici addirittura. E allora se noi vogliamo vedere quanto è scientifica la medicina dobbiamo andare a vedere i risultati, dobbiamo vedere cosa fa, quanti guarisce, quante persone guarisce, quante persone ammazza, eccetera. Andiamo a fare un po' il bilancio. E allora c'è stato qualche anno fa, 4-5 anni fa, ci sono stati dei medici naturopati americani che hanno detto prendiamo le statistiche, quelle ufficiali, quelle che adesso non so quale sia l'istituto di statistica statale, federale, americano, ma insomma qualcosa come l'Istat da noi. Hanno preso tutte le statistiche di 10 anni, poi hanno fatto diviso per 10, hanno fatto la media, e hanno visto che ogni anno, vi dico i numeri precisi, ogni anno, negli ultimi anni fino al 2002, nei Stati Uniti ci sono 784.000 morti per medicina. Cioè non persone che non sono state guarite e sono morte, no, 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 persone che sono state ammazzate con una operazione, con un procedimento medico. E ce ne sono ben 305.000 morti per farmaci, reazioni da farmaci. Non farmaci usati male, non errori medici, no, ma usati nella maniera giusta. E questi farmaci sperimentati, super sperimentati, messi in commercio, autorizzati, hanno ucciso, ogni anno uccidono, perché ancora la cosa continua, in media 305.000 persone. Errori medici, sicuramente sottostimati, 98.000, piaghe da decubito, 115.000, infezioni ospedaliere, ma pensate uno va in ospedale, magari non è neanche malato grave, va in ospedale, si becca un'infezione e muore, 88.000. Malnutrizione, malnutrizione negli ospedali per lungo dei genti, danno poco da mangiare, così il proprietario, il direttore o quello che è, insomma, si becca più soldi, e ne muoiono ben 100, quasi 109.000, 108.800. Procedure mediche non necessarie, questa è fantastica, perché uno sta bene, non ha bisogno di farsi nessuna terapia, ma chissà perché dice, ma facciamocene una terapia, tanto è gratis, me la passa l'assicurazione, perché lì non c'è lo Stato che passa le terapie gratuite. Non ci sono le assicurazioni, io pago tanto le assicurazioni, mi faccio fare una bella terapia, anche se non ho bisogno. Beh, 37.136 morti per pratiche non necessarie, e conseguenze da interventi chirurgici 32.000, quindi il totale sono 783.936. Insomma, è un bilancio da, non so, da guerra. È una grande città spazzata via ogni anno. Mi pare che la bomba atomica abbia fatto meno danni, mi pare che le vittime per ogni bomba atomica sganciata erano 200.000 persone. In dieci anni sono quasi 8 milioni, no? Quasi 8 milioni di persone morti. Un bel bilancio, un bilancio da guerra. Aggiungiamo che in America, ma questi dati io li ho presi da lì, però possono estendersi anche all'Europa. Il livello economico, tecnologico, medico, sanitario è più o meno uguale, no? Quindi basta fare debiti e proporzioni, abbiamo le cifre che vanno bene anche per l'Italia, per l'Europa. Pensate che per ottenere questi risultati viene speso per la sanità negli Stati Uniti il 14% del prodotto nazionale lordo. Quindi nel 2003, ma attualmente sarà sicuramente aumentato, è di 1.600 miliardi di dollari. E non ve lo traduco in lire perché è una cifra troppo lunga. E poi c'è un altro fatto, no? Vado molto veloce, eh? Che quando i medici scioperano sempre le statistiche di morte diminuiscono. Ah, bella. Questa è grande, eh? Beh, allora dico io, ma perché non chiudiamo ospedali, cliniche, università, facoltà di medicina, aboliamo la professione medica, scusatemi perché ho degli amici che fanno i medici lì, e stiamo molto meglio, siamo più ricchi, più in salute, viviamo più a lungo, ma sembra una battuta, no? Ma se andate a vedere i risultati, se andate a vedere i numeri, non è mica tanto una battuta. Eh, ma io sento che nella testa di qualcuno qui sicuramente c'è un pensiero che gira. Eh, dice, ma insomma Mondini, Mondini ce l'ha qui i medici, la medicina è proprio partito preso, però, insomma, sì, la medicina non è una scienza esatta, però, insomma, qualcosa farà, no? E a fronte di questi 8 milioni di morti in 10 anni, ci saranno decine, centinaia di milioni di vite salvate, insomma, dai, la medicina è scientifica, ha dei mezzi incredibili, c'è una ricerca che prende tanti, che succhia tanti di quegli soldi, è vero. E quindi, insomma, beh, allora andiamo a vedere cosa fa la medicina, abbiamo visto cosa fa di male, vediamo cosa fa di bene, no? Allora io in questo, in questo libretto qui, e io ho fatto un elenco, ma così, buttato giù, l'ho buttato giù di getto senza neanche stargli troppo a pensarci, no? Di malattie, le principali malattie che mi sono venute in mente. mettiamo il cancro, i disturbi cardiocircolatori, che sono considerate le prime cause di morte nei paesi occidentali. Tra l'altro, facciamo un passetto indietro. In America abbiamo visto che sono 784.000 all'anno morti per medicina, e ci sono 700.000 morti per malattie cardiocircolatorie, e 553.000 per cancro. quindi i morti per medicina sono la prima causa di morte nei paesi occidentali. Questi sono i numeri, non sono le mie opinioni, sono numeri. e comunque, allora, dicevo, cancro, disturbi cardiocircolatori, poi abbiamo il diabete, morbo di Alzheimer, di Parkinson, AIDS, sclerosi multipla, malattie genetiche, nivrosi, psicosi, artrosi, allergie, artriti, e via via di seguito. Beh, ma penso che, anche se non siete esperti di medicina, potete sapere, se ci pensate un po', che nessuna di queste malattie trova guarigione con la medicina ufficiale. Non ce n'è una. Non ce n'è una che guariscono. C'è qualcuno di voi che la conosce, una di queste malattie? O anche di altre, che qui non ho citato, che è una malattia che sia abbastanza diffusa, no? Alzate pure la mano, eh, me lo dite. Qual è la malattia che guariscono? Sembrava strano, perché nessuno alza mai la mano. Sì, 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 sono malattie croniche. Ovviamente, non ho preso le malattie acute, perché le malattie acute, per definizione, eh, eh, cominciano e finiscono in un tempo più o meno lungo, breve, no? O finiscono o con la morte del paziente o con la guarigione. Non, non durano molto, no? Quindi, è un po' difficile, eh, capire, se, eh, capire se, eh, sono, sono guarite perché il paziente tanto guarirò lo stesso per la medicina. C'è una signora che ha alzato la mano, forse per dirmi una malattia che viene guarita dalla medicina. No, eh, no, sta barando, signora, io sto dicendo guarita, eh, no, non si accettano miglioramenti. ma questo è un altro discorso, non c'entra, non c'entra niente. Io sto parlando di guarigioni perché di trattamenti ce ne sono un sacco. L'allergia non la guariscono, fanno dei trattamenti. La pressione, l'ipertensione non la guariscono, però fanno dei trattamenti che abbassano la pressione. il diabete sì, non lo guariscono, ma fanno dei trattamenti che abbassano il livello di glucosio nel sangue. È tutto così, la medicina è tutta così.